Messina al lavoro a Fiugi, struttura splendida, rosa però ancora un po' provvisoria, non a caso c'è anche un po' di perplessità da parte della piazza che sperate presto di spazzare via. Un posto bellissimo e devo intanto a nome della società ringraziare il comune di Fiugi, l'albergo Italia che ci ospita e tutti quelli che ci stanno mettendo nelle condizioni di lavorare veramente molto molto bene. La piazza sicuramente è una piazza attenta, quella di Messina, noi siamo molto contenti dell'attenzione che c'è attorno alla società, la piazza mi sento di tranquillizzarla perché abbiamo ben chiari le idee che vogliamo portare avanti. L'importante in questo momento è piazzare dei colpi come abbiamo fatto e come stiamo facendo che ci possano garantire di trovare sul mercato e di prendere dal mercato i profili più giusti tra gli under. Nel frattempo vanno avanti tutta una serie di trattative che evidentemente ci porteranno col tempo a completare la rosa e farci trovare pronti per la Coppa Italia all'inizio del campionato. Dal punto di vista societario c'è un'eredità della quale si parla spesso non semplice, avete chiuso qualche transazione? Sicuramente è un percorso di risanamento che è cominciato ormai la scorsa stagione che stiamo portando avanti, lo stiamo facendo con grandissimi sacrifici da parte della proprietà della CR Messina che comunque si fa trovare sempre pronta e capace di superare determinate criticità che si sono presentate nel passato e anche nell'immediato passato. Noi siamo ottimisti per il futuro perché la società si sta anche da questo punto di vista riorganizzando, abbiamo ben chiara la situazione debitoria ed è assolutamente sotto controllo, nel contempo la società sta avviando, ha avviato e continuerà a portare avanti tutta una serie di progetti che permetteranno alla squadra di lavorare al meglio nei prossimi giorni, la prossima settimana, ci auguriamo di poter annunciare qualche ulteriore novità anche da questo punto di vista. Cerchiamo di lavorare e lavoriamo sempre per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili e quindi lavorare e allenarsi serenamente. A questo proposito oggi è il primo vero giorno di lavoro, abbiamo visto un clima bellissimo, giocatori contentissimi di allenarsi, di sudare ed è quello che noi vogliamo. Videosorveglianza, fideiussione, due contrattempi che avreste evitato o ulteriori sacrifici da parte della proprietà? Assolutamente, due contrattempi che avremmo veramente voluto evitare, nonostante anche a questo si sta facendo fronte, si è fatto fronte, abbiamo dovuto ricercare una seconda fideiussione ma come abbiamo spiegato per un fatto che non è in alcun modo imputabile alla CR Messina. Il problema legato invece alla videosorveglianza è un altro problema che abbiamo dovuto affrontare in maniera importante, in maniera veloce perché evidentemente non si può stare senza quelli che sono i sistemi di controllo di videosorveglianza. L'ultima stagione è stata condizionata oltremodo dagli infortuni, dalle problematiche legate ai campi, state cercando di superarle ampliando l'accordo già stipulato, portato avanti con l'università. Stiamo facendo tutta una serie di attività, di iniziative che presto la città potrà vedere, e sono certo anche apprezzare, per superare i problemi che l'anno scorso hanno caratterizzato il campionato della squadra che per la mancanza di strutture e per altri problemi evidentemente un po' ne ha risentito. È importante avere dei campi di gioco che siano all'altezza, è importante avere delle strutture che permettano alla squadra di allenarsi al meglio. Su questo stiamo facendo delle importanti investimenti, tutti fatti per permetterlo, dico ancora una volta, alla squadra di lavorare il meglio possibile.